Sono calabrese da Caracas, da Italo, senza italiano venezuelano, in compagnia oggi di Edoardo Martínez, candidato al Parlamento italiano, Camera dei Deputati, per la lista Popolari, Civica Popolare, Lorenzi, una lista del centro-izchieta, e Edoardo Martínez, un ingegniero, molto conosciuto in Venezuela, per il suo impegno davanti a un politico venezuelano, Edoardo Martínez, un dirigente del COPEI, il COPEI, per l'autore di Venezuela, e è come la democrazia cristiana in Italia. E ora si lanciò Ensen Aventura, un deputato per la in Italia nelle prossime elezioni del 4 di marzo, che qui, ricordo a tutti, che qui se nota entro il 1 di marzo. Edoardo Martínez, che cosa ti chiede a fare al Parlamento italiano? Il Parlamento italiano, in questa nuova legislatura, debemos lograr, perdono, la gente di America del Sur, 3 cose. Uno, perché sono problemi comuni in tutta Lattinoamerica, lo che passa è che in alcuni paesi come Venezuela è più critico, però abbiamo i stessi con l'inconvenimento perché abbiamo avuto la stessa crisi una e la prima volta, una e la prima volta. Abbiamo che risolvere il problema del consulato. Se tarda molto per il trasmittura, è un problema, non si dà cita. È impossibile, è incredibile che un italiano tenga che tenere più di un anno a la espera di poter renovare il passaporto, mentre che un turista arriva e in pochi giorni gli dann la misa per andare a l'Italia. Questo non ha senso. La seconda cosa è il tema delle pensioni e delle aiutate economiche per gli più necessitati. La maniera in cui viene interactuando il Stato italiano con gli immigrati italiani che vivono in Sudamérica è equivocata. La aiuta non arriva a chi ha che non arriva a chi ha avuto, non arriva a chi ha avuto, non arriva a chi ha avuto e i trasmittori delle pensioni, molte volte hai che facerlo a través di terceri persone e delle storie. E la tercera è una questione molto grave, la lingua è una lingua per un paese, è il centro, lo che une a ese paese, lo che une a la gente di ese paese. E in America del Sur e in tutto il mondo probabilmente, il italiano, immigrante, con la dell'Italia italiana, i sui figli e i sui nieti, non parlano italiano. Per lo che deve essere un impegno, in cui questi italiani abbiano il idioma che è lo che une a un paese. Esi sono i tre propositi di andare a Montecitorio. In il caso specifico venezolano, abbiamo due problemi adicionali. La situazione dei italiani economica e socialmente è grave, per il descalato economico che fa il paese. E lo secondo è che Venezuela va a necessitar ayuda humanitaria e in la medida in cui Venezuelano sia meglio, gli italiani che vivono in Venezuelano staranno meglio. Esi sono tre propositi che mi animano a in Italia, i italiani che vivono in Italia. Esi italiani che vivono in Italia e noi italiani che viviamo fuori d'Italia non siamo extracomunitari, siamo italiani ecco, questo è un punto molto importante che voglio che tu abbia detto lo italiani da Venezuela sono italiani a tutto il fuori perché in Italia non si dice questo non funziona? Probabilmente, in Italia lo conciben così però il italiano che vive in Venezuela, su conexione o su unica conexione con Italia è il consulato e il consulato siente che lo trattano molto male perché non può rinnovare il passaporto a tempo, perché le trattano mesi in che tu non riesco a conseguir una città per poter fare il trattamento in vero e quando va la gente siente che il trattamento che gli danno non è buono non lo trattano con carino molti italiani non si stanno inscrito a votare perché aborrezzano come lo ha tratato il consulato e quindi decidono che sì che hanno il passaporto italiano e che lo unico che facendo è ir a rinnovare il passaporto e ir a registrare a i figli e 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 i figli come si lo danno in italiano però il trattamento è un trattamento e il trattamento e lo trattano di male quindi non fa via politica non vota, non è inscritto per votare Venezia è un paese che deve tenere in torno di 600 mil italiani vivendo qui però registrare per votare sono 185 mil e devono essere due o tre volte esa quantità con la edad e la gente non si sente bobo e sua maniera di votare è non votare e dopo di 85 mil inscritti vota 25 o 30 non vota mai che questo non vota mai che questo è un po' di titolo politico il partito che mi stai rappresenta tiene candidato in Italia del valore come il perfetto di Mambo Cassini per il conto suoi sembrattari dell'interrogazione a favore del Venezuela dell'unità non nazionale che è buono, che è la prima persona che ha fatto il suo impegno a favore del venezolano e del venezolano. Ha fatto il ministro di sanità, come si. Come si è colonna con questo partito? Come mi muocio? E' molto sencilla, i valori fondamentali della Alianza di Chivito Popolare sono di un catolicismo laico non confeccionale, con i principi e i valori del humanismo cristiano e della dottrina social della Iglesia, reformista in quanto a la gente ha cambiato, e europeista. Io comungo completamente con esa visione della vita in Italia, della vita politica. Sono social cristiano, sono democristiano come lo sono loro, perché coincidiamo in questi valori e in questi principi. Se nos ha detto che siamo di centro-izchiaia, centro-sinistra, però per i cattolici che facciamo politica, noi non ci consideriamo di direccia o di izquierda. Noi abbiamo valori e rispondiamo a questi valori che sono valori fondamentali della civilizzazione occidentale. E creiamo in questi valori, lo che ci fa coincidere a veces con la derecha e lo che ci fa coincidere a veces con la izquierda. Però non siamo né di direccia né di direccia in quanto a lo che la derecha ha representato nel mondo in questo momento e lo che ha representato nel mondo in questo momento. Nostro stiamo in una posizione equidistante, è dove sì, ideologicamente, abbiamo una definizione propria, un concepto proprio che nos aleja di direccia e di izquierda, però che in la aczione politica e in la aczione gubernamental coincidiamo a veces con la centro-izchiaia e con la centro-dereccia, perché è una izquierda con la quali non abbiamo coincidito, e una con la derecha, che non abbiamo coincidito, che la gente generalmente chiama la posizione extrema, di una a la d'altra, per questo non è difficile incorporare un lato con noi, perché abbiamo in la vista, lo che vediamo a largo plazzo e lo che vediamo per l'Italia, è il l'ultima domanda, ha una domanda a un italiano venezolano, che non è in Venezuela, a pochi giorni da la serra del voto, perché non è votato un italiano venezolano per l'olito italiano? Devo, appello che devo votare, perché portiamo a Montesitorio le tre proposte, le tre proposte, consulato, aiuta e pensione, e la lingua italiana, che tutti gli italiani devono parlare italiano, tutti i nostri figli, i nostri amici, devono parlare italiano. quali sono le tre proposte? e dietro portiamo la esperienza di Renata Boe, che ha fatto grande poste per la Venezuela e per la Sudamerica regionale, per Ferdinando Cassini, che anche lo ha fatto, e la Lorenzini, che è una deputata in gamma, che ha portato al Ministero di Sanità le misure che la popolazione italiana ha bisogno in questi tempi, con la vaccinazione, che è una misura molto importante per i bambini italiani, perché arrivano decenni di mille di extracomunitari, che portano infeczioni e altre malattie, e abbiamo bisogno di protegere i nostri bambini. e grazie a tutti i nostri bambini italiani e i nostri bambini italiani e i nostri bambini italiani e i nostri bambini italiani. Grazie.